Ciao ragazze e ciao ragazzi, anche se questo video è un po' più per le ragazze, visto che è concentrato sul trucco, ma perché no? Che i ragazzi possono truccarci, non ci vedo niente di male. Questo è un Get Ready With Me chiacchiericcio, in cui vi racconto un sacco di cose sulla mia vita, matrimonio, eccetera. Quindi, mi avete chiesto voi di farli così chiacchiericci, spero di non avere rossetto sui denti, no? Quindi mi avete chiesto voi di farli così chiacchiericci, Get Ready With Me, e io ascolto sempre le vostre richieste. Quindi, questo è un Get Ready With Me chiacchiericcio, perché parlo veramente, cioè, senza, si dice, a brilli e sciolte, quindi senza freni. Vi racconto tutto quello che mi passa per la testa, oltre che raccontarvi come ho fatto questo trucco. Quindi, che tutto sui toni dell'arancio, molto autunnale, insomma, sta bene sia sugli occhi chiari che sugli occhi scuri, secondo me perfetto per questa stagione. Niente, vi lascio al tutorial, ma se volete sapere come ho creato questo trucco, seguitelo, a quanto mi mancava dire questa frase. Ciao! Proviamo questi Get Ready With Me chiacchiericci, che sono stati tanto richiesti da voi, e quindi spero vi piaccia. Nella prima volta che ne faccio uno così, non facevo tutorial parlati tipo da sei anni, quindi non vi prometto niente. Vedremo che cosa capiterà. Inizio con la Beauty Blender, che tra l'altro ho trovato un modo, in questo video potrò parlarvi di mille cose che solitamente non riesco a dirvi. Allora, ho trovato un modo per pulire la Beauty Blender, che esce pulita, utilizzando il sapone ai fichi di Lush, che non mi ricordo come si chiama, non so, Adamo Devon o cosa del genere, non me lo sono inventata. Comunque sto usando il fondotinta della Rila Steel, questo è un campioncino, voglio vedere come mi ci trovo, mi è stato consigliato dalla dermatologa. E tra l'altro spero che il colore sia giusto per me, altrimenti uscirò con un mascherone in viso. Bene! Inizio prima con il fondotinta, che mi sembra leggermente troppo scuro per me. Inizio prima con il fondotinta, poi passo il correttore, sapete che ultimamente sto facendo così. Che cosa vi devo raccontare? Allora, volevo iniziare dal video di ieri, perché ieri ho caricato il video sui 10 segreti, i 10 modi per utilizzare lo smalto che nessuno conosce. Uno dei quali era usare lo smalto come alternativa al cerotto spray. E intanto mi avete scritto, no, ma magari contiene sostanze tossiche lo smalto. Dovete sapere che sarà tipo una ventina d'anni che c'è una normativa europea che proibisce l'uso di sostanze tossiche negli smalti in tutta la zona dell'Unione Europea. Quindi, se lo usate come cerotto, naturalmente non è una cosa che consiglierei ogni giorno, naturalmente, ma solo in caso di mancanza di cerotti, eccetera. Ma non correte nessun rischio, perché non sono tossici. Allora, a me sembra terribilmente arancio questo fondotinta. Non credo sia fattibile, purtroppo, per la mia pelle. Ma siccome ho un problema di acne che sto cercando di risolvere, la dermatologa mi ha detto, usa questo assolutamente. Quindi adesso vedremo di renderlo più chiaro. Lei mi ha detto che poi una volta asciugato diventa più chiaro, cosa che io mi auguro, perché in questo momento sembro un'indiana. Questo ci tenevo a dirvi per quanto riguarda il video di ieri. Quindi le sostanze tossiche non possono esserci dentro gli smalti. Quindi siete tranquilli, anche se, appunto, non consiglierei di farlo ogni giorno. Se avete una ferita, usate lo smalto. No, naturalmente non fa respirare proprio perfettamente la ferita, eccetera. Però, appunto. Ora, con il correttore uso il Born This Way. Anzi no, prima userò quello NYX, il Dark Circle Concealer, che è fatto apposta per le occhiaie. Anche se io non ho mai avuto grandi problemi di occhiaie, questo è rosato, aranciato. E quindi quel poco me lo copre molto, molto bene. Devo dire, non va nelle pieghette, mi trovo molto bene con questo correttore. Altra cosa che vi volevo dire, allora, stiamo pianificando, come ben sapete, il nostro matrimonio. E abbiamo scelto più o meno il menu, abbiamo scelto location, chiesa, eccetera. Naturalmente data, che come sapete è il 26 di agosto. E adesso il problema più grande sono praticamente le bongoniere. Perché c'è una scelta assurda. Alcuni mi dicono, no, ma prendi le online, che conviene. Altri mi dicono, no, no, no. C'è un lavoro assurdo da fare, se le prendi online, le devi comporre tu, eccetera, eccetera. Vi giuro, cioè, se qualcuna di voi si è già sposata, ragazze già sposate, anche ragazzi, uomini. Cioè, datemi una mano, dateci una mano. Con la scelta delle bongoniere. Perché Tomas mi dice, fai tu, io non ci capisco niente. E quindi io a mia volta dico a voi, fate voi, vi prego, aiutatemi, non ci capisco niente. E sono andata a togliere quel fondotinta perché era davvero troppo scuro per me. Ora, al posto della crema idratante, vado ad applicare l'Hangover Primer. È di Too Faced ed è uno dei pochi primer con cui mi trovo bene. Non ostruisce i pori, è leggero, non dà fastidio, non è siliconico. E quindi mi piace, anche se adesso sono tutta arrossata. Perché quando mi strucco, sapete, quella pelle è delicatissima. Quindi basta strofinarla un minimo e diventa color peperone. Quindi, poi, lavato anche la Beauty Blender. Ricominciamo da capo con la base. Uso il Born This Way Foundation. Questo colore si chiama Parseline, che è naturalmente il più chiaro, cioè, sfigatissima. E quindi vado finalmente a stenderlo su tutto il viso. Questo è molto naturale, quindi mi piace. Altre cose da raccontarvi, vediamo. Allora, su YouTube c'è una nuova opzione che permette di far sapere al proprio pubblico quando un video è sponsorizzato e compare tipo un messaggio di sua impressione. Tipo, questo video potrebbe contenere, un po' come in tv, questo video potrebbe contenere messaggi pubblicitari, eccetera, eccetera. Quindi ditemi se, non lo so, se volete che io attivi questa opzione nei video sponsorizzati oppure no, perché so che è sempre abbastanza chiaro, anzi, è completamente chiaro quando i miei video sono sponsorizzati, non lo nascondo. Quindi, fatemi sapere se volete comunque che attivi anche questa cosa del sottotitolo oppure no. Ok, ora passo di nuovo al concealer NYX per il contorno occhi. Ora, di nuovo, correttore Born This Way, avrei potuto tagliare la parte in cui potrei tagliare, anzi, la parte in cui applico il fondotinta, quello troppo scuro ma, visto che voglio che questi video siano molto naturali e chiacchiericci perché mi dite che vi mancano i miei video chiacchiericci e allora voglio fare così e voglio parlare di quello che mi viene in mente del più e del meno senza troppi tagli e voglio ringraziarvi davvero per il sostegno che vi date ogni giorno anche da quando vi ho detto perché vi devo dire la verità quando, ormai un anno e mezzo fa quando c'è stata la rottura con il, eccetera ora vado ad applicare la Make Up For Ever HD Powder questa è pressata perché quella svolazzante svolazza troppo quando c'è stata la rottura con Neil avevo paura perché essendo voi tanto affezionate comunque alla nostra coppia poi quando vi ho presentato Tomas ero veramente un po' preoccupata che magari voi non approviate lo so che è la mia vita privata quindi naturalmente io ho proseguito con la mia vita privata ma siccome voi per me contate tanto ho sempre pensato chissà cosa diranno loro chissà come la prenderanno, eccetera e quindi sono contenta insomma che siate rimaste al mio fianco che sto coprendo un brufolo che prima non ho visto sono contenta che appunto che vi vogliate bene che siate rimaste con me che tra l'altro c'è, era il 2009 che ho iniziato quindi su YouTube intendo quindi voglio dire sono passati sette anni e voi siete ancora lì quindi questo per me è il regalo più grande allora ora con la Chocolate Soleil di Too Faced questa è una terra e questa è medium deep come colore vado a fare il contouring rastendo sia sotto gli zigoni in questo modo perdonatemi se faccio delle facce così strane quando faccio il contouring ma anzi quando mi trucco in generale voi sapete che il viso ideale, perfetto la perfezione non esiste però si dice che il viso perfetto sia quello ovale siccome il mio, non lo so, me lo vedo sempre troppo tondo vado ad assottigliarlo leggermente con la terra lungo tutto il contorno ed è un po' che sto facendo così che poi mi state chiedendo tutto se sono incinta cioè no ragazzi, per adesso ancora no se mi vedete un po' più rotondetta evidentemente ho messo su quello che chilo e quindi poi stendo un po' di terra anche sotto al mento ok, altra cosa che faccio è il contouring al naso siccome sono troppo pigra per prendere pennellini adatti e fare un contouring come si deve non vi nascondo che quello che faccio solitamente è con lo stesso pennello che ho usato per il viso vado a fare il contouring al naso in questo modo io voglio assottigliarlo quindi vado a creare un'ombreggiatura ai lati così e la faccio finire più o meno dove iniziano le narici proprio perché mi sento di parlare con voi come con delle amiche e poi non mi va se lo farò mai di dire non è vero di far finta di niente quindi ho pensato e ok, magari è un'idea pazza e magari poi vado a creare un ombreggiatura anche sotto per alzare un po' il nato farlo sembrare un po' più alto un po' più patatina non uccidetemi vi prego ma voglio essere sincera con voi voglio anzi voglio ho pensato e questo non vuol dire che lo farò sicuramente perché magari domani mi sveglio e mi rendo conto di una cavolata ma ho pensato su un pochino così ho pensato che potrebbe essere interessante se io facessi il filler alle labbra sì, lo so che le mie sono già molto molto pompate naturalmente nel senso che il mio labbro inferiore è molto come si dice non lo so corposo è molto grosso ma quello superiore ho sempre avuto la sensazione che non lo fosse abbastanza non lo so in confronto a quello sotto ho sempre avuto questo labbro sotto gigante e quello super normale quindi ho pensato di fare magari il filler al labbro superiore adesso voi ditemi se sono impazzita ditemi io non mi sono nemmeno informata più di tanto cioè magari fa un male cane e ovviamente appena mi dicono che fa un male cane io cambio idea però vorrei sapere se magari qualcuno di voi l'ha fatto e con l'anonimato di youtube magari può dirmi se me lo consiglia o non me lo consiglia se fa male non fa male e soprattutto farei comunque una cosa naturale nel senso che non si vedrebbe nemmeno più di tanto io faccio sempre il contouring cioè metto sempre la matita leggermente all'esterno del bordo quindi più o meno sarebbe come quando è il rossetto fatemi sapere se consigli se non ditemi no è uscino perché farei una cosa che la vedo solo io però se magari qualcuno di voi già l'ha fatto cioè ditemi boh magari appunto domani mi sveglio mi rendo conto che è una cavolata blush uso questo della Yves Rocher colore colore 2 rose camelia e vado credo che questo sia il 187 di MAC non so se mi ricordo ancora i nomi dei pennelli perché non ve li dico mai nei video ma do sempre per scontato voi già li sappiate quindi questo blush molto naturale li metto sempre e solo completamente opachi non mi piace fare né contouring con prodotti glitterati o shimmer o insomma perlati voglio che siano completamente opachi nel frattempo siccome siamo ancora dobbiamo ancora iniziare gli occhi vado ad applicare la base per le labbra così intanto si idratano questa è di Claren si chiama Instant Light ed è una semplice base trasparente ora illuminante questo è il Girl Meets Pearl di Benefit che sapete che è tipo il mio illuminante preferito ne stendo poco poco solo qui sulla punta del naso questo mi aiuta a farlo sembrare ulteriormente più alto e poi un po' sull'arco di cupido mi piace molto stendere l'illuminante qui e poi naturalmente sotto anche sopra agli zigomi ora vado prima a stendere la Stay Don't Stray di Benefit sulla palpebra sia mobile che fissa poi vado a prendere la 12 Flash Color Cake di Make Up Forever questa è pazzesca l'avete vista anche nel mio vlog ne parlavo per la fondatrice e vado a stendere il bianco solo sulla palpebra mobile perché poi appliceremo un arancio e quindi questo lo farà risaltare ancora di più ciao pupetto ho acceso le luci perché non si vedeva più nulla veramente cioè tipo alle 3 ormai è già buio ok poi sfumo con le dita ritorno agli inizi perché vado ad usare una delle mie palette MAC intramontabili se vi ricordate delle mie palette MAC scrivetemi nei commenti questo è Denver che piange perché lui piange sempre cioè se non è accanto a me 24 su 24 lui piange e vado a prendere l'arancio della palette che è questo ombretto si chiama Rue sicuramente lo conoscete già vado ad applicarlo appena sopra alla base bianca questa cosa da questa parte lo picchietto in modo da non avere troppo fallout ma questa base della Make Up For Ever è ottima perché cattura l'ombretto quindi fallout è difficile con questo primer ora cambio palette vado a prendere questa che è la semi sweet chocolate bar e vado a mischiare dov'è questo marrone opaco con l'arancio dell'altra palette MAC e vado a stendere il colore nella piega dell'occhio appena sopra l'arancio se vedo che non è abbastanza arancio poi aggiungo un po' dell'arancio e se vedo che non è abbastanza scuro aggiungo un po' del marrone quest'anno non so se lo sapete ma vanno di modo i trucchi rotondi quindi non allungati ma più rotondeggianti e quindi continuo così adesso non lo vedo abbastanza scuro quindi aggiungo un po' di marrone lo porto fino all'angolo interno ok se invece già mi seguite su Snapchat sono curiosa di sapere che cosa vi sembrano questi mini vlog perché non sapevo bene come ora pennellino piatto anzi usiamo il pencil brush vado a mischiare sempre l'arancio con il marrone stesso colore lo stendo anche sulle ciglia inferiori usavo Snapchat poi è uscito Instagram stories che diciamoci la verità sono praticamente la stessa identica cosa io non sapevo bene come utilizzare uno e l'altro quindi mi sono detta allora facciamo così Snapchat lo uso più come diciamo come vlog canale vlog mentre Instagram stories lo continuo ad usarlo per farvi vedere anche lì naturalmente degli spezzami delle mie giornate però magari meno chiacchiericci e c'è qualche foto in più vi faccio vedere i miei prodotti insomma è magari un pochino più make up come come social ecco poi datemi un consiglio magari che cosa volete vedere su Snapchat che cosa volete vedere su Instagram stories quale preferite dei due usate Snapchat sì no usate Instagram stories sì no magari non lo controllate mai e voglio sempre sapere i vostri pareri su tutto non mi resta che stendere il color carne della semi chocolate sotto al sopracciglio andiamo a sfumare per bene il tutto con un pennello pulito il mio devo dire era pulito ieri ora non so quando sia pulito però credo che il suo lavoro lo faccia comunque sfumiamo sfumiamo per bene voi sapete che il segreto di qualsiasi make up soprattutto quelli un pochino più scuri è sfumare e quindi stessa cosa anche di qua solitamente faccio le sopracciglia già mentre faccio la base come ho finito la base ma oggi non lo so evidentemente sono emozionata perché questo genere di video chiacchiericcio non ero più abituato a farlo ma devo dirvi che mi piace ci piace ora con la beauty blender che è ancora un po' sporca di correttore vado ad alzare il tutto semmai è volato qualcosina troppo in basso sempre dalla palette mac vado a prendere questa ovviamente è una palette che ho creato io quindi vado a prendere questo che si chiama nylon ed è un illuminante come al solito qualsiasi colore io usi è super sostituibile quindi potete usare un qualsiasi illuminante lo stendo nell'angolo interno in questo modo e poi lo sfumo eyeliner uso lo sketch marker di Too Faced anche qui qualsiasi eyeliner a pennarello vi darà lo stesso effetto io amo gli eyeliner a pennarello sono quelli che secondo me sono più facili da usare come sempre inizio da metà verso l'esterno poi da metà verso l'interno sopracciglia uso la matita di Diego della Palma solitamente uso quella della Clarin che oggi non trovo quindi useremo questa altra cosa che vi volevo chiedere sto cercando di ricordarmi tutto quello che voglio dirvi e chiedervi anche se già so che appena premerò stop a questo video mi verranno in mente tutte le cose che non vi ho detto ma prossimo Get Ready With Me vorrei sapere qual è la vostra tipologia di video preferita e soprattutto voglio sapere da quanto tempo mi seguite quindi ragazze e ragazzi che state vedendo questo video scrivetemi nei commenti da quando se vi ricordate circa quando avete iniziato a seguirmi perché per me vuol dire tanto sapere se mi seguite da tanto ma voglio bene anche chi mi segue da ieri se mi avete appena scoperto ma per me insomma è importante così e mi fa piacere naturalmente se mi seguite da tanto quindi scrivetemi anche come mi avete scoperto su YouTube altra cosa che mi interessa molto ora mascara in abbondanza solo sulle cili inferiori perché vedete che ho l'extension purtroppo non sono mie queste ciglia questo è il mascara supra volume di Claren faccio sempre la faccia assurda quando metto il mascara vi giuro fa ridere cioè faccio dei movimenti con la bocca tipo ok la matita che uso è di Collistar e la matita professionale labbra numero 19 che è una delle poche matite arancio che ho quindi non avevo tantissima scelta vado a segnare il contorno come vi dicevo prima sotto rimango nel bordo delle mie labbra invece sopra vado leggermente fuori così almeno sono bilanciate vi giuro già so che sarete tutte scioccate da quello che vi ho detto però è una cosa che mi sta non lo so girando per la testa da un po' magari appunto rimane solo un'idea non lo so comunque se lo faccio ve lo dico subito vi faccio il video e vi racconto tutte le mie peripezie di come è andata eccetera prendo il rossetto che è uno dei miei preferiti in assoluto di questo colore questo è il NYX liquid suede colore 05 è pazzesco questo colore lo amo sia in autunno che in estate che in inverno veramente sta da dio lo stendo sopra è liquido ma una volta che si asciuga diventa opaco e questo è il look finale se vi sembra un pochino troppo forte eccetera potete applicare un nude che va a rendere il colore labbra un pochino più cano se magari è troppo per voi lo vedete come un colore un po' più estivo e vado a picchiettare questo nude non so se si vede la differenza in videocamera ma quello inferiore è meno spento rimane comunque arancio ma è un po' non meno spento un po' più spento quindi faccio la stessa cosa anche sopra il look è completo spero vi piaccia vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo tutorial a questo punto li farò sempre così chiacchiericci perché ci piace bacio ciao